Un saluto a tutti i ragazzi di scuola.net, siamo in collegamento con l'ambasciata italiana in Australia, in particolare con il dottor Adriano Tedde che è il segretario dell'ambasciata italiana. Buongiorno, o anzi buonasera visto che adesso in Australia è mezzo pomeriggio mentre da noi la giornata è appena iniziata. Buongiorno, sì esattamente, qua sono le 6 del pomeriggio, abbiamo 8 ore di distanza con l'Italia in questo momento e ci troviamo alle porte dell'inverno. Ecco, invece in Italia siamo alle porte dell'estate, si sta avvicinando la maturità e molti studenti credono che grazie alla differenza di fuso orario di cui abbiamo appena parlato sia possibile ottenere le tracce della maturità in anticipo, sfruttando proprio la differenza di fuso orario che c'è tra le scuole italiane in Italia e quelle italiane in Australia. Cosa c'è di vero in questa leggenda? Si tratta esattamente di una leggenda, una leggenda metropolitana, a noi ben nota, molti ragazzi pensano che si possa sfruttare, come le diceva, il fuso orario fra Italia e Australia per conoscere in anticipo le tracce degli esami di maturità. Questo non è possibile per due ragioni molto semplici. Una è che non esistono scuole italiane in Australia, non esistono istituti dove gli studenti sono chiamati a rilasciare gli esami di Stato. L'altra ragione, anch'essa molto semplice, è che l'anno scolastico in Australia segue un calendario diverso dal nostro. Qua ci troviamo nell'emisterio sud del mondo, le scuole iniziano a febbraio e finiscono una settimana prima di Natale, quindi nel mese di giugno o luglio, quando da noi si tengono gli esami di Stato, i ragazzi qua si trovano in pieno inverno, spena a metà anno nel loro anno scolastico. Eppure mi diceva, Dottor Ted, che nonostante questi ragionamenti che sono molto semplici e facilmente verificabili, anche facendo una ricerca su Wikipedia o comunque su qualsiasi altro sito internet, in realtà ci sono tantissimi ragazzi che nei giorni precedenti l'esame si spingono a chiamare l'ambasciata, è vero? Sì, sì, è vero. La leggenda metropolitana, come tutte le leggende, è forte e circola. Molti ragazzi purtroppo ci credono e si spingono appunto a chiamare fino in ambasciato, altre istituzioni qua in Australia per avere una conferma, molti credono nella speranza di ottenere le tracce degli esami. Qua in ambasciata riceviamo diverse telefonate e email ogni anno, purtroppo la risposta che diamo è esattamente quella che le ho dato io poc'anzi, cioè che non esistono scuole italiane in Australia e che l'anno scolastico segue un calendario molto diverso dal nostro. Lei poi mi stava dicendo per email che è stato molto contento di essere contratto da noi di scuola.net, perché questa mole di richiesta alle volte può anche intracciare il lavoro in quei giorni? Sì, ci sono molte persone che ci chiamano ogni anno e scrivono delle email, come le dicevo. Questo ovviamente costringe certe persone qua in ambasciata a dedicare del tempo per dare risposta a queste telefonate, alle email, una risposta che si potrebbe evitare se fosse più diffusa la conoscenza del fatto che siamo di fronte a una leggenda metropolitana, cioè al fatto che le tracce per gli esami di maturità non possono e mai verranno dall'Australia. Allora, a questo punto scadiamo un po' nel gossip e nella curiosità. Quali sono le domande più frequenti e le reazioni più frequenti dei ragazzi una volta presa questa notizia? Il fenomeno si verifica soprattutto il giorno prima degli esami, perché molti ragazzi chiamano per sapere quali sono i titoli delle tracce appena uscite. Persone che chiamano ovviamente intorno alle 3-4 del mattino in Italia, sperando di poter sapere con qualche ora anticipo i temi dell'esame. Le reazioni sono varie, certe persone non ci credono, insistono, pensano che qui esistano delle scuole italiane, altre chiudono il telefono e non fanno più sapere niente di loro. Quindi sono persone che chiamano nel cuore della notte, la notte prima degli esami, per chiedere informazioni, corretto? Evidentemente sono dei ragazzi che non sono connessi a scuola.net perché noi ogni anno realizziamo una notte bianca sul web aspettando la maturità e per tutta la notte ribadiamo no, le tracce in anticipo non si possono conoscere e invece ci sono tanti che purtroppo non ci credono, magari invece si fidano di altri sciamani della rete che affermano di avere le tracce e quindi appunto poi i risultati sono quelli che ha descritto il dottor Ted che abbiamo in collegamento. Un appello ai ragazzi che si apprestano a fare la maturità? Il mio appello è molto semplice dall'Australia, io vi invito tutti a lasciar perdere ogni leggenda metropolitana e ogni voce infondata, non chiamate in Australia perché perdete tempo e sprecate anche del denaro. L'appello che posso fare è quello più semplice di tutti, studiare, essere pazienti e non sperare in cose infondate. Va benissimo, noi il dottor Ted la ringraziamo per la sua disponibilità e a questo punto le auguriamo buona serata. Grazie a voi e un complimento in bocca al lupo per il quale metto. Grazie mille.